A Montegrotto si va verso il BIS per la Festa della Musica, iniziativa del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e SIAE. Il Comune Termale è solo una delle 643 amministrazioni che ha deciso di supportare questa iniziativa nazionale. 25 tra band, cantautori, bande cittadine e corpi di ballo animeranno la città lungo Via Scavi, presso le piazze Carmignotto, Primo Maggio, Roma, Perlasca, la piazzetta del condominio Dedalo e il parco Mostar. L'appuntamento è perciò per domani, giovedì 21 giugno, a partire dalle ore 20. Special Channel News, Montegrotto Terme